Tu eri nell'appartamento, non l'hai vista prima che scomparisse? Si, perché ho visto che stavo giocando come sempre, come bambina. Come sempre giocava, intanto la mamma arrivava al lavoro, mi ha detto dove è la figlia. Ho visto che stai giocando, la ha guardato, come si dice la ventana? La finestra? La finestra? La finestra? Ha guardato? La ha visto per la finestra che era ancora lì. Lì, la mamma ha guardato per la finestra e ha visto la bambina. Poi la ha visto che non c'era. Non c'era più. Tu eri in casa? Tu eri in casa in quel momento? Quando è stato l'ultimo momento, l'orario in cui hai visto la bambina? Alle 3.40. Alle 15.40? 15.40. 15.40, come dice. E la mamma che ora è rientrata? Cioè alle 15.40 la bambina era ancora nel cortile a giocare? Fino alle 15.40 era lì a giocare, sì, con altri bambini. Con altri bambini. Basta, grazie. L'ora come la mamma non l'ha visto che era più lì, ha andato a la stanza, a la camera dove stanno loro a cercare la bambina, non c'era più. È di quel momento che loro cominciarono a cercare disperadamente, pensando che era... Loro hanno cercato. Per noi, la famiglia, per noi, per favore. E la mamma è disperata. Anche ora stai con l'avvocata, sì, con l'avvocata c'è... Nessuno ha visto nulla delle persone che abitano in questo stabile? Non hanno visto niente.